Sulla gazzetta ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione della tangenziale di Gela, per un investimento complessivo di oltre 304 milioni di euro. Dopo l'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato da parte del commissario straordinario di governo Ingegner Raffaele Celia, ha preso avvio la procedura di appalto che prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale a monte dell'abitato gelese, che collegherà la statale 117 bis alla statale 626. L'investimento complessivo include 3,8 milioni di euro per la progettazione esecutiva, 2,5 milioni per il piano di monitoraggio ambientale Ande Operam e in corso d'opera, oltre a quasi 9 milioni di euro per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso. L'appalto prevede una durata per la realizzazione pari a 1.825 giorni, comprensibili 365 giorni per il piano di monitoraggio Ande Operam e per la redazione del progetto esecutivo e di 1.460 giorni per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di 150 giorni per andamento stagionale sfavorevole. Il finanziamento ha tinto in parte dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, in parte dal contratto di programma 2014-2016 fra ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'appalto sarà giudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. Le offerte digitali corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 aprile 2023 sul portale acquisti di ANAS.